What's good? What's good? Come away, come away, let me get along Hey! Una volta senza music? Yes. È piccola, ma è veloce. Facciamo un'altra volta? Viamo, ok? 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8 1, and 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 1, and 2, 3, and 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 1, and 2, 1, and 2, 3, and 4, side, ok? Però faccio l'ultima spiegando interamente gli step velocissimo E poi una volta in music e poi basta ok? E la salvo Quindi facciamo subito Vai 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, round 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, and done Ok? Facciamo una volta in music e poi salvo a diretta Vi ringrazio tantissimo 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 per aver seguito l'intervista e poi la piccola lezioncina Il tempo basta velocissimo Infatti grazie ancora per avermi seguito Vi mando un bacio grandissimo Mi raccomando Mai abbassare la testa Sempre so guardare i vostri sogni Diretti, sicuri Stiamo passando che è difficilissimo Mi dispiace un sacco Come credo a voi Come a tutto il mondo in questo momento Ma dobbiamo essere forti per comunque Mantenere diciamo Il mondo ancora illuminato Con i nostri sorrisi Con le nostre forze Con tutta l'energia del mondo E aiutiamo comunque Stando rinchiusi in casa Quindi ci basta solo questo Che è una cosa semplicissima Ma allo stesso momento Allo stesso tempo anche difficile Quindi niente Vi ringrazio tantissimo Sono contento First live done E vi mando un bacio Spero di incontrarvi Prima o poi E Spero che vi sia piaciuto Un bacio Ci vediamo Mua